Quasi tutto deciso per il rimpasto di giunta, entrerà nella giunta Alessandrini Gianni Teodoro della lista Teodoro Pescara. Consigliere Pignoli, qual è ad oggi la situazione? Un giorno dopo il ferragosto, per cui è una situazione tranquilla, aspettiamo l'evolversi. Noi abbiamo avuto certezza da parte di un incontro fatto col sindaco, il segretario cittadino, con il capogruppo del PD e con il capo di gabinetto del sindaco. C'è stato un confronto, penso, positivo, per cui non ci dovrebbero essere problemi. L'uscita di scena dell'assessore Giuliano Diodati ha creato malumori, creerà malumori in una parte del PD? Ma è una questione che a noi non riguarda, sinceramente. Però potrebbe creare problemi negli equilibri del centro-sinistra e della maggioranza? Sarà il PD a risolvere questi problemi. Io conosco l'amico Giuliano Diodati, persona seria, persona disponibile, persona capace, un buon professionista. Però poi le dinamiche politiche sono tutt'altra cosa, per cui sarà il PD a derimere questa ulteriore matassa che si è creata all'interno. Noi non cercavamo nulla, il sindaco ci ha chiesto una rappresentanza in giunta, noi anche durante il Consiglio Comunale non abbiamo mai rivendicato al sindaco, alla maggioranza, la possibilità di dover e voler entrare in giunta. Il sindaco ci ha chiesto una persona capace, una persona che sappia dare risalto all'amministrazione comunale, che sappia dare spinta propulsiva a questi ultimi anni e mezzo che ci sono rimasti in consigliatura. E noi, unitamente io, unitamente al capogruppo Teodoro, abbiamo individuato questa persona in Gianni Teodoro, una persona seria, una persona capace, una persona disponibile, una persona che ha veramente all'interno della pubblica amministrazione un risalto e che ha governato anche tanti anni. Consigliere Teodoro, cambierà qualcosa con la presenza di Gianni Teodoro in giunta per quanto riguarda la lista Teodoro da qui al termine della legislatura? Noi continueremo a essere propositivi, come lo siamo sempre stati, sia in consiglio e questa volta anche in giunta, cioè dove c'è il governo e il cuore della città. Certo, è una persona esperta, a cui non dobbiamo dare consigli, è lui che ci ha sempre dato dei consigli come organizzare, amministrare, cercare di essere d'impulso e dipungere all'amministrazione comunale, sarà sicuramente capace e saprà sicuramente far bene, non per noi, ma per la città di Pescara.